Buongiorno, sono Roberto Navonizio di Laser Navigation. In questo video vi presentiamo la nostra piattaforma Sof.ai e le sue ultime evoluzioni in ambito robotico, di gestione di infrastrutture e nell'ottica di creazione di agenti AI. È una piattaforma che ha già ricevuto diversi riconoscimenti a vari livelli, sia in ambito robotico che in ambito di gestione di infrastrutture. Abbiamo ottenuto in questi anni diversi brevetti, in particolare nel 2018 abbiamo applicato per il nostro principale brevetto che è quello di gestione e controllo di un processo attraverso tecniche di intelligenza artificiale. E questo è un po' il brevetto su cui si fonda tutta la tecnologia che vi presenteremo quest'oggi. Dal punto di vista delle applicazioni abbiamo sviluppato soluzioni in ambito di robotica autonoma, di gestione di infrastrutture e di data collection massiva di informazioni. In particolare in ambito robotico abbiamo realizzato diversi robot per applicazioni soprattutto di visione, supervisione di ambienti confinati come ad esempio gallerie e infrastrutture strategiche. Abbiamo inoltre in passato lavorato molto anche su droni volanti e poi più recentemente su droni marini. Tutta la nostra tecnologia Sofiei l'abbiamo declinata in questi contesti dove la creazione di un digital twin per la comprensione di quello che è il contesto è fondamentale per l'operazione automatico assistita da personale specializzato. L'inizio dello sviluppo della robotica all'interno della nostra azienda è partito nel 2008. Io sono uno dei fondatori di Ardu Pilot che è un progetto open source sul quale oggi si basano diversi sistemi sia di tipo professionale che di tipo avanzato in ambito di ricerca e sviluppo. Nel 2014 abbiamo lavorato molto sulla miniaturizzazione, continuiamo a lavorare molto su quello. Nel 2015-2016 abbiamo iniziato appunto le evoluzioni dei sistemi robotici integrando l'intelligenza artificiale fino ad oggi dove abbiamo integrato poi quello che è la nostra piattaforma chiave che è Sofiei. Questi sono alcuni use case a cui abbiamo lavorato nel passato. Uno dei più interessanti appunto è stato quello di cui abbiamo anche il brevetto e con cui abbiamo collaborato in passato con una start-up che si chiama Arcon per la realizzazione di droni autonomi in grado di atterrare e decollare in modo autonomo da una piattaforma di ricarica essenzialmente, effettuare le sue missioni e poi tornare al punto di partenza pronti per una nuova missione. Altri robot a cui abbiamo lavorato, sicuramente Axel. Axel è un robot che ci è stato commissionato da un progetto di ricerca sviluppato con CIM 4.0 e con Reply, essenzialmente il mezzo è basato su una piattaforma di Merlo che è un noto costruttore di mezzi industriali. Noi abbiamo inserito tutto ciò che riguarda la parte di navigazione, di teleoperazione e di anticollisione durante le attività di movimento del mezzo. Questo è un esempio del teatro operativo all'interno di una galleria, della galleria della TAV, degli operatori con una ground station erano in grado di controllare il mezzo. Durante le fasi di progettazione abbiamo lavorato molto sul tema dell'affidabilità e del controllo in scenari anche molto complessi che replicavano un po' quelli che erano i scenari disponibili all'interno della galleria. Ancora un'altra immagine dove possiamo vedere la ground station e gli operatori che controllano anche tutti i parametri ambientali all'interno della galleria prima di fare entrare il personale. Questo è un altro robot sviluppato in questo caso per Terna per effettuare ispezioni periodiche della galleria di Favazzina che porta l'elettricità dal colmo della montagna fino alla spiaggia. In particolare questo è un ambiente molto complesso in quanto il campo elettromagnetico è un campo molto forte generato dalle terne elettriche e il nostro robot oltre a essere eterooperabile e fare le sue ispezioni con telecamere termiche nel visibile e sensori ambientali ha anche uno shield che lo ripara dalle emissioni elettromagnetiche. Questo è un altro screenshot di questo robot che abbiamo realizzato. Si vede l'antenna, l'antenna di controllo e la telecamera di ispezione e la telecamera termica in questo caso un cingolato. Altri screenshot e altri punti di vista come l'inserimento all'interno della galleria del rover in questo caso appunto il rover ha anche delle luci che illuminano il suo tragitto e è in grado di operare seguendo questa rotaia. Questo è un altro robot che abbiamo realizzato invece per applicazioni più in ambito agricolo sempre teleoperabile sempre autonomo che può servire per fare ispezioni a livello ambientale. Questo è un sensore che è stato realizzato appunto per fare dei rilievi specifici di qualità del terreno. oltre ai robot abbiamo sempre lavorato molto anche sulle console di comando quindi su delle ground station custom che andavano in qualche modo a risolvere problematiche di user experience. In ambito robotico come dicevo oltre alla robotica volante e terrestre abbiamo lavorato la realizzazione di droni marini in particolare abbiamo realizzato un robot d'inghi è un gommone dotato di intelligenza artificiale e di sistema di teleoperazione e pilotaggio remoto è nato per attività di tipo sperimentale in un ambito di controllo ambientale o di supporto ad alcune attività come quelle di regata questo è un progetto sperimentale a cui noi stiamo lavorando da diverso tempo. sul robot d'inghi abbiamo installato alcune tecnologie avanzate come sistemi LiDAR o sistemi di ispezione subacquea che ci consentono di implementare diversi tipi di servizi come ad esempio battimetrie controlli di porti oppure attraverso l'uso di site scanner anche analisi subacquee. questo è un esempio di un sensore side scan collegato a bordo del robot d'inghi che ci consente di fare una scansione subacquea attualmente stiamo anche realizzando una versione che può portarsi in profondità fino a circa 250 metri per poter osservare più da vicino relitti o situazioni nei quali abbiamo bisogno di intervenire per fare delle operazioni. l'interessante è che anche le immagini provenienti da site scanner possono essere analizzate da sistemi di intelligenza artificiale specializzati in modo tale da poter gioreferenziare i vari oggetti che vengono riconosciuti dall'intelligenza artificiale più da vicino magari successivamente con dei ROV ecco l'architettura classica di un nostro autopilota si chiama VrCaptain nella versione X11 e praticamente ci consente di controllare in toto tutta la dinamica di navigazione di un mezzo abbiamo anche implementato un sistema specifico che si chiama Marine Sentinel che serve per dare al sistema funzionalità di anticollisione un altro prodotto che abbiamo realizzato in ambiente marino è la VrBoe che è basata anche essa sul nostro autopilota VrCaptain ed è una boa collegata attraverso router 4G e 5G ad un sistema di controllo che ne coordina il movimento in modalità swarm con le altre boe che costituiscono il campo gara di una regata velica l'applicativo può essere un applicativo che funziona sia in cloud che su dispositivi mobili tutti questi progetti sperimentali li abbiamo sviluppati all'interno del nostro field test sul lago di Seo il field test si trova attorno all'isola di Montisola essenzialmente abbiamo circa 30 km di percorso attorno all'isola disponibile per le nostre sperimentazioni e oltre a fare sperimentazioni in superficie quindi navigando sia a vela che anche con mezzi elettrici e in futuro anche con sistemi foilanti quindi siamo in grado di percorrere in una giornata anche 200 o 300 km di percorso sperimentale inoltre sempre quest'area si presta per le sperimentazioni subacquee infatti la profondità è di 270 metri che è una profondità sufficiente a fare sperimentazioni piuttosto complesse queste condizioni difficilmente si riescono a reperire in aree marine così vicine alla costa dopo l'esperienza in robotica degli ultimi anni ci siamo resi conto di come il robot in scenari complessi quale può essere una diga o una centrale elettrica o anche un impianto industriale quando si trova a muoversi all'interno di queste infrastrutture ha il problema che i suoi sensori hanno dei limiti volumetrici non possono spingersi oltre per poter analizzare zone di un impianto dove lui dovrà andare e dovrà muoversi ad esempio che so passando sopra delle infrastrutture o delle persone quindi quello che ci siamo resi conto è che un robot da solo non ha la capacità di percepire tutto l'ambiente in cui lui dovrà muoversi e di qui è nata l'idea di SoFi AI inteso come digital twin in grado di partendo da immagini di una scena reale ricostruire un modello 3D in tempo reale dell'ambiente che in qualche modo consentisse ai robot ma anche eventualmente alle squadre di primo intervento di intervenire all'interno di quell'impianto e di quell'infrastruttura da questa idea che è maturata nel 2018 abbiamo fatto prima un deposito di un patent italiano questo patent ci è stato riconosciuto nel 2020 e dopo nel 2023 a settembre è stato riconosciuto anche il patent europeo siamo ancora in attesa del patent americano questo ci consente di continuare con serenità a sviluppare questa tecnologia nelle sue differenti sfaccettature e verticalizzazioni con la consapevolezza che quanto abbiamo fino ad oggi realizzato ha un carattere estremamente innovativo ora introduciamo il progetto e l'idea e la spieghiamo un po' più nel dettaglio ecco dal punto di vista dell'architettura di sistema sofiai è in grado di creare un digital twin in tempo reale questo digital twin come viene creato? viene creato attraverso l'uso di sensori presenti nello scenario nella scena magari già preesistenti che prima servivano soltanto per la videosorveglianza ma che oggi possono essere usati come sensori per fare una detection riconoscere oggetti o persone o cose nella scena georeferenziarle in modo preciso e riportarle all'interno di una mappa questo ci consente di creare questo digital twin con una frequenza di circa 10 aggiornamenti al secondo utilizzando sensori che possono essere normali telecamere possono essere termocamere, lidar o anche radar una volta creato lo scenario 3D in cui tutti gli oggetti sono classificati e localizzati e si vedono muovere all'interno della scena noi possiamo con un sistema di workflow andare a definire delle regole per quell'area, per quella scena e far sì che se queste regole vengono disattese dagli operatori, dai mezzi, dai robot che si muovono all'interno della scena il sistema possa generare degli allarmi e prendere delle contromisure a quanto sta accadendo in quel momento questa è un po' la novità che ha, diciamo, campi di applicazioni molto estesi in ambiti molto differenti tra loro infatti a breve vedremo diversi use case anche complessi in ambiti diversi dalle smart city alle smart road ad altre applicazioni anche in ambito marino ecco come dicevamo appunto noi possiamo gestire diversi tipi di sensori questi sensori eterogeni tra di loro possono dare anche un vantaggio dal punto di vista degli algoritmi di detection perché magari quello che non è in grado di rilevare un IP camera di notte lo è in grado una termocamera oppure un lidar o che so, anche un radar questi dati messi in uno scenario unico consentono di vederlo da più punti di vista e quindi andare a confermare ad esempio la presenza di un mezzo di una persona magari in ambito notturno cosa che con uno solo di questi sensori magari in certi momenti in certe condizioni ambientali non è possibile validare il nostro sistema è in grado come dicevamo di interfacciarsi anche con degli IoT sia in un'ottica di sense che in un'ottica di attivazione quindi l'intelligenza artificiale può interagire col mondo reale attraverso proprio i sistemi IoT già presenti può aprire un varco può rilevare del fumo può rilevare dei parametri ambientali come in alcuni dei progetti che abbiamo fatto in ambito di smart building inoltre è in grado anche di trasmettere informazioni a robot, terrestri o volanti per far sì che questi possano intervenire in tempo reale in uno scenario complesso e andare a verificare da vicino che cosa sta effettivamente accadendo abbiamo anche fatto delle implementazioni e delle sperimentazioni a livello di sistemi satellitari succede un qualche cosa dei radar mi avvertono di un qualcosa che è successo posso attivare un satellite per andare a vedere nel dettaglio foto di quell'area e fare delle ulteriori analisi e scansioni nel tempo abbiamo lavorato a diverse tipologie di algoritmi questi algoritmi che abbiamo implementato sono algoritmi che vanno da rilevazione di man down adp a flussi di traffico ma anche al calcolo della volumetria che so in in un'area di raccolta di materiale dei magazzini a cielo aperto oppure anche l'identificazione di eventuali rotture crepe presenti su delle infrastrutture ma anche rilevazione di fumo o di incendio in particolare sul tema degli incendi di sviluppato una particolare attenzione e delle particolari tecnologie grazie diciamo anche a uno dei nostri ingegneri Marco Preziosi che ha depositato questo studio di dettaglio proprio sul comportamento delle reti di intelligenza artificiale nell'ambito del fire detection provando con diversi scenari a verificare l'efficacia e l'efficienza di queste reti che in questo momento grazie all'avanzamento tecnologico risultano essere estremamente efficaci questo ad esempio è uno degli algoritmi in continua evoluzione che la nostra piattaforma può gestire e può utilizzare per comprendere meglio quanto sta accadendo all'interno di una scena abbiamo poi implementato dei sistemi mobili proprio sia in un'ottica di sperimentazione abbiamo trovato questa esigenza di andare a verificare con i nostri clienti i diversi comportamenti dei vari sensori nei vari scenari in particolare in un'ottica di anonimizzazione abbiamo visto e di visione notturna che anche i radar possono funzionare molto bene all'interno della nostra piattaforma Sofie AI e inoltre possiamo mixare sia radar che telecamere per vedere lo stato di avanzamento di crescita di un cantiere ma anche verificare il comportamento delle persone dei mezzi all'interno del cantiere per scongiurare possibili problemi al personale che lavora all'interno di queste infrastrutture il sistema è dotato di più sensori eterogeni tra di loro e questo ci consente di avere più conferme ad esempio di un comportamento o di una scena che si sta verificando all'interno di un'infrastruttura questo è un tema molto importante in ambiti strategici come lo smart road dove l'importanza della verifica multipla per convalidare una situazione è decisamente è decisamente importante l'obiettivo nostro è quello di andare a realizzare un sistema come intelligenza artificiale che supervisiona uno scenario 24 ore al giorno 365 giorni all'anno creando una dashboard di gestione del rischio per mantenere il rischio sempre contenuto entro dei parametri di sicurezza accettabili per la sicurezza dei lavoratori possiamo controllare violazioni di regole e di processi possiamo verificare eventuali situazioni di malori di personale o renderci conto di incidenti attraverso sensori di fumo o di fuoco o anche sonori oppure dell'accesso non autorizzato o l'intrusione di persone all'interno di aree non autorizzate in ambito smart road anche qui abbiamo fatto diverse attività di ricerca e sviluppo e anche consolidato delle tecnologie importanti sia in un'ottica di classificazione di veicoli che di gestione di emergenze e protezioni in un'ottica di anticollisione di aree all'interno dei cantieri piuttosto che verifiche di man down file detection e intrusion detection sempre all'interno di strutture importanti stradali e autostradali in ambito marino abbiamo sviluppato Sofia e Marine Sentinel che è una piattaforma in grado sia di tenere sotto controllo il ponte di una nave verificare che gli operatori che stanno effettuando dei lavori si trovino in condizioni di sicurezza e che non abbiano problemi durante i loro lavori in particolare di carico e di scarico dei moli piuttosto che durante le attività di navigazione e inoltre sempre con il nostro sistema siamo in grado di fornire un sistema di anticollisione in ambito marino estremamente efficace che può utilizzare sia LiDAR che telecamere che radar e sensori anche in ambito in ambito RF proprio per dare massima garanzia di sicurezza sia ai droni perché inizialmente questa tecnologia è nata per i nostri sistemi e i nostri droni autonomi che per quanto riguarda inattanti con personale a bordo questa tecnologia ha il vantaggio di poter rilevare anche alcune imbarcazioni che magari non sono dotate di sistemi RF di segnalazione di tracker eccetera questo è un po' l'oggetto uno degli oggetti che abbiamo costruito il vantaggio della nostra soluzione qual è? è che da un lato si può riutilizzare molto di quanto già installato in tante infrastrutture come telecamere o LiDAR o sistemi IoT dove questi sensori non sono disponibili possiamo integrarli quindi possiamo di fatto fare un retrofit della infrastruttura con un basso costo per quanto riguarda l'introduzione dell'AI perché andiamo ad analizzare flussi di dati già presenti all'interno della infrastruttura stessa il nostro sistema è modulare ed è scalabile può supportare architetture sia in cloud dove i sensori li mandiamo in cloud e li analizziamo lì oppure possiamo anche per ragioni di privacy analizzare i sensori in modalità edge oppure totalmente in modo on-premises un po' come facciamo sui nostri droni quando navigano in autonomo o in mezzo al mare diciamo che abbiamo portato un po' la robotica all'interno delle infrastrutture questo è un po' la nostra vision il vantaggio della nostra azienda è che ha uno skill molto importante in ambito di creazione di reti neurali custom in grado di fare object detection di oggetti custom possiamo consentire al nostro cliente di crearsi degli workflow con dei linguaggi visuali entro il quale definire delle regole in cui il sistema opera abbiamo in corso anche uno sviluppo proprio quest'anno di una nuova tecnologia di generazione del workflow basato su reti neurali generative LLM di cui parleremo poi dopo che ci consentirà di avere un sistema ancora più flessibile dal punto di vista proprio degli workflow che controllano digital twin prodotto dalla nostra piattaforma di AI ultimo ma non meno importante sicuramente è il fatto che queste tecnologie sono in forte evoluzione e la nostra piattaforma è di conseguenza in continua evoluzione nella prossima sessione andremo ad analizzare alcuni use case che abbiamo implementato negli ultimi anni dove abbiamo utilizzato la nostra la nostra tecnologia dopo questa breve introduzione vi mostriamo quelli che sono alcuni degli use case che abbiamo realizzato negli ultimi negli ultimi anni questi use case sono una parte delle attività sperimentali realizzate ma diciamo sono quelle un po' più significative e eterogene tra di loro una delle applicazioni più interessanti in cui Sofia è stata impiegata è sicuramente quella dell'anticollisione abbiamo realizzato dei sistemi di anticollisione tra cantieri mobili e mezzi stradali questo in un'ottica di implementazione di logiche di smart road per aumentare la sicurezza stradale noi abbiamo fatto diverse sperimentazioni diversi sviluppi proprio in ambito in ambito smart road proprio nel riconoscimento e la detection in tempo reale dei veicoli e di eventuali invasioni di carreggiate che sono protette in quanto gli operatori stanno lavorando al loro interno abbiamo poi realizzato un altro use case interessante con il Politecnico di Milano dove abbiamo implementato un sistema di controllo della presenza delle persone all'interno delle varie aule che tra l'altro nella sua ultima revisione ha anche implementato una logica di integrazione di sensori IoT per vedere la quantità di CO2 presenti nelle varie stanze in relazione proprio al loro livello di occupazione questo anche è un tema decisamente interessante quindi sia l'uso dell'AI che l'uso dell'IoT l'analisi comparata dei dati porta diciamo a ottenere tutta una serie di informazioni che i soli IoT non consentivano di ottenere quindi la quantità di persone che occupava le stanze abbiamo poi implementato dei sistemi di controllo di stabilimenti per vedere l'accesso alle varie aree controllare la sicurezza di accesso alle varie aree l'area dei parcheggi l'area di carico scarico e in più anche sistemi di automazione ed integrazione per l'apertura di cancelli o per l'attivazione di sistemi all'interno degli impianti industriali anche in questo caso un altro impianto industriale in cui controlliamo l'accesso dei veicoli e il flusso del traffico in questo caso in più abbiamo anche un tema di areatex da tenere monitorato per evitare che dei mezzi carichi con del materiale infiammabile possano parcheggiare vicino aree critiche abbiamo sia una soluzione con AI che una soluzione con smartphone i sistemi interagiscono tra di loro e ti consentono la localizzazione integrata sia delle persone collaborative con smartphone che delle persone non collaborative che possono essere presenti nell'area proprio il confronto tra collaborativi e non collaborativi ci consente di evidenziare quelle che possono essere delle intrusioni non autorizzate in alcune zone dell'impianto in questo caso sempre all'interno di un impianto di un nostro cliente abbiamo implementato delle logiche di controllo di man down quindi questa è una criobanca all'interno della criobanca sono presenti nell'area dei gas che possono che sono in odore che possono portare l'operatore a svenire e nel caso i più critici alla morte per carenza di ossigeno il sistema è in grado di rendersi conto di queste criticità generare degli allarmi attivare in automatico dei sistemi di ventilazione per riportare il livello di ossigeno all'interno dell'area ai livelli normali avvertendo poi le squadre di emergenza per intervenire e capire cosa sta succedendo un altro sistema che abbiamo implementato invece in un'ottica di anticollisione tra muletti e persone all'interno di impianti qui abbiamo in corso tutta una serie di progetti con diversi clienti proprio sull'anticollisione tra mezzi e persone anche questo è un tema molto caldo dell'intelligenza artificiale può aiutare molto c'è una necessità forte di addestramento delle reti perché appunto in ambienti complessi tante reti non sono disponibili e quindi vanno addestrate ex novo e questo crea dei costi di implementazione piuttosto importanti noi abbiamo maturato delle esperienze di addestramento di reti in diversi scenari e questo ci consente di essere piuttosto flessibili nell'andare a migliorare le reti di detection questo invece è un altro impianto che abbiamo realizzato per il porto di Malta in questo caso il nostro sistema di intelligenza artificiale che è installato attraverso delle telecamere sui porti di imbarco è in grado di verificare la quantità di mezzi classificandoli per automezzi pesanti leggeri motociclette e quant'altro e identificando quali possono essere i tempi di attesa per essere imbarcati sul traghetto essenzialmente questa è una soluzione che il ministero di Gozzo ha adottato proprio per il controllo degli accessi ai suoi porti in questo caso invece abbiamo realizzato dei sistemi sperimentato dei sistemi di vehicle tracking e controllo del comportamento all'interno di infrastrutture quali gallerie anche questo è un progetto di Smart Road che ci ha consentito di maturare delle esperienze in questo ambito un altro progetto che ci ha consentito anche di vincere un premio con Bosch è stato appunto un progetto di Smart Parking evoluto in questo caso il progetto è stato fatto in un periodo dove l'intelligenza artificiale da poco veniva applicata in ambito di parcheggi mostrando delle potenzialità importanti rispetto alle tecniche più tradizionali di image processing quindi l'image processing è più lento e meno preciso l'intelligenza artificiale può essere molto più precisa e molto più veloce nel fare la detection di automobili di mezzi di persone questo consente di implementare degli algoritmi molto più efficienti per realizzare soluzioni di Smart Parking abbiamo poi lavorato a dei progetti con NLX per il riconoscimento di crepe su infrastrutture per il progetto di ricostruzione dell'Aquila dove abbiamo anche sperimentato la trasmissione in 5G da droni di queste immagini ad un centro di gestione che poi analizzava i dati raccolti e poteva in qualche modo identificare la criticità di un'infrastruttura rispetto appunto a quanto l'AI detettava dai dati dei droni ecco diciamo che queste use case sono alcune delle use case più interessanti e ora quello che andremo invece a vedere è una nuova soluzione legata al tema dell'intelligenza artificiale generativa applicata ai workflow oltre alla creazione di digital with twin tramite tecniche di intelligenza artificiale come avevamo discusso nelle presentazioni precedenti uno dei temi importanti è proprio quello della creazione di workflow efficienti per poter identificare le regole da applicare a questi digital twin per poter generare allarmi o per poter gestire situazioni estreme situazioni critiche in questi scenari e da qui è iniziato diciamo un percorso di analisi da quasi un anno e mezzo due delle tecnologie di AI generativa in particolare di analisi del linguaggio questo tipo di analisi ci ha portato a creare un background forte e importante proprio nella conoscenza di questi algoritmi di AI LLM nell'ottica di poter affrontare argomenti complessi sfruttando al massimo tutto il patrimonio documentale che un'azienda può avere già a disposizione e che può essere utilizzato per estrarre quelle che possono essere le regole da rispettare all'interno di determinati scenati e di determinati ambienti questo percorso che inizialmente nasceva soltanto per creare dei workflow dinamici più efficaci in realtà si è evoluto e ci ha portato a costruire un'architettura estremamente interessante che può essere applicata non solo su un digital twin ma anche su tutti gli aspetti documentali e esigenze che vanno un po' oltre gli aspetti di infrastrutture e di gestione robotica sono comunque tutti algoritmi correlati le nostre piattaforme sono interconnesse e consentono di gestire sia algoritmi di visione e algoritmi anche di LLM con l'ultima revisione di quest'anno della nostra piattaforma il nostro sistema di intelligenza artificiale generativa basato su tecniche LLM è essenzialmente pensato per avere un'architettura flessibile interfacciabile sia con sistemi IoT infatti il nostro sistema è in grado di collegarsi ad esempio a dei broker MQTT piuttosto che tramite delle API a dei sistemi informativi o attraverso lo scraping anche a dei siti web o dei repositori documentali dei clienti che contengono una serie di informazioni queste informazioni possono essere informazioni che variano nel tempo e quindi non sono informazioni statiche quindi a differenza di altri sistemi di intelligenza artificiale aggiornati a diversi mesi fa noi possiamo mantenere il nostro sistema aggiornato in tempo reale rispetto all'evoluzione di scenario del nostro cliente siamo in grado di raccogliere poi documentazioni sia di tipo pdf che dei video piuttosto che dei link dei repositori documentali fare in modo che il nostro database di tipo semantico raccolga tutte queste informazioni le organizzi le organizzi all'interno di un unico geodb semantico perché geo perché noi abbiamo portato all'interno della nostra architettura llm la stessa logica della nostra architettura di digital twin dove ogni oggetto viene assolutamente georeferenziato e grazie all'integrazione di tutte queste informazioni e ha dei motori linguistici estremamente capaci siamo in grado appunto di consentire un'interazione tra macchine o tra uomini e macchine attraverso delle tecniche dalle più tradizionali chatbot o voicebot fino ad arrivare ai più avanzati digital human il nostro sistema è pensato in un'ottica di gestione di workflow e quindi l'idea di interagire non solo con gli umani come fanno i normali chatbot ma anche con altri sistemi digitali è un po' la base della nostra progettazione quotidiana dell'evoluzione di questo sistema dal punto di vista dell'architettura della nostra tecnologia noi abbiamo fin da subito capito che il modello LLM è una delle componenti necessarie per comprendere uno scenario abbiamo quindi implementato questo nostro AI Agent con la tecnologia LLM che può essere addestrata e migliorata rispetto ai modelli basici che possono essere sia di tipo open source che anche closed source quindi il nostro sistema l'interfaccia entrambi abbiamo un vector database che è in grado di creare una memoria locale della nostra intelligenza artificiale questo vector database può essere integrato con informazioni che provengono da cloud da IoT e possono essere anche integrate con delle function call a delle API presenti online quindi questo è un tema molto importante perché l'integrazione con l'IoT siamo in grado di farlo grazie all'intelligenza artificiale che trasforma il linguaggio naturale in function call questi dati poi vanno ad assommarsi anche ad un custom model file che ogni agente ha che descrive un po' il carattere dell'agente io posso andare a configurare degli agenti che hanno funzioni diverse e che collaborano tra di loro se noi questa se noi questa è la strada l'LLM da solo può far poco gli agenti tra di loro possono interagire per riuscire a risolvere problemi complessi stiamo lavorando su alcuni use case per alcuni importanti clienti sia di approcci sales dei nostri agenti quindi all'interno di un approccio sales può esserci un cliente ecco l'ambito uno degli ambiti su cui stiamo lavorando è quello dell'immobiliare quindi possiamo avere esperti legali quindi AI addestrati per essere esperti legali AI addestrati per fare la ricerca di proprietà sul mercato proprietà che possono avere un vantaggio economico rispetto ad altre perché hanno delle caratteristiche che in un'ottica di arbitraggio mi consentono di identificare un vantaggio nell'acquisto di un immobile piuttosto che di un altro poi posso avere un esperto di gestione della maintenance della building che quindi può vedere qual è lo stato della building e capire quale può essere il costo per il ripristino per l'ammodernamento della building rispetto alle normative quindi anche quest'altro agente può essere un agente che porta un vantaggio all'interno dell'ecosistema dell'AI che si occupa della vendita o degli acquisti di immobili dopodiché l'utente parlerà con un agente supervisore che interagisce con gli agenti specializzati che sono addestrati proprio come spiegavamo prima con un LLM un Vector Database che è stato costruito attraverso l'uso di documenti specialistici e questi documenti specialistici assieme al custom model file vanno a descrivere in modo specifico che funzione ha questo agente all'interno di questa mixture of expert questa mix di esperti che poi gestiti dal supervisore dialogano con il cliente per avere il massimo della resa dal punto di vista del risultato ottenuto possiamo avere anche degli agenti che si occupano del supporto uno dei temi a livello immobiliare che stiamo affrontando è quello degli affitti brevi ad esempio e in quel caso quando tu hai un cliente che ha bisogno di supporto devi rivolgerti al diciamo all'esperto di quella specifica esigenza quindi se io ho bisogno di un assistente che è supervisore del plant perché ho dei problemi nella mia abitazione parlerò con questa persona se invece voglio avere delle indicazioni turistiche rispetto a quell'ambito perché ho deciso di affittare quell'appartamento e poi però voglio uscire a cena piuttosto che voglio andare a visitare dei musei lì attorno parlerò con l'AI che è esperta del mondo turistico e della logistica per raggiungere i vari punti questo è un po' l'approccio che noi stiamo portando avanti abbiamo identificato in telegram uno strumento di interazione facile e veloce per l'utente quindi con la nostra AI la nostra assistente virtuale Sofia praticamente si può parlare interagire e chiedere le informazioni di un immobile per poterlo raggiungere per poterlo vivere per poter vivere il mondo turistico che lo circonda è ovvio che oltre a questo tutto il tema del Digital Twin che dà supporto attraverso l'IoT è implementabile e quindi possiamo unire i due mondi quelli del supporto tramite i nostri agenti AI e quelli del Digital Twin per la sicurezza dell'immobile piuttosto che la gestione energetica dell'immobile e della sicurezza dell'immobile dal punto di vista anche che so di eventuali situazioni che si possono creare all'interno dell'abitazione oltre all'interfaccia Telegram per i nostri agenti AI abbiamo implementato anche interfacce innovative come Digital Human in questo caso questo Digital Human è Francesco e si occupa di commentare una regata vedica questa è solo una piccola introduzione di questa nuova parte di tecnologia che abbiamo implementato nei nostri laboratori attualmente abbiamo diversi progetti in corso che sono coperti da NDA quindi non possiamo svelarli è una tecnologia che è disponibile da circa un anno e mezzo e i primi clienti hanno iniziato a lavorarci da circa un annetto e quindi stiamo iniziando a vedere ora i primi risultati interessanti di queste soluzioni grazie a tutti se avete bisogno di qualche informazione contattatemi pure se volete fare qualche approfondimento nessun tipo di problema grazie anche ai week per averci dato questa opportunità di farci conoscere e di far conoscere le nostre tecnologie buona giornata a tutti e buona continuazione grazie a tutti